In estremis all'ultimo minuto Bitcoin rialza un po' la china e si riporta sulla resistenza 30.000 che però nuovamente blocca il movimento di Bitcoin che in pratica non riesce a superare questa resistenza da un po' di tempo e non sappiamo questa volta se ci riuscirà. Questa è la resistenza nuova e questo rialzo come vi dicevo nell'ultimo video era a tempi veramente strattissimi ragazzi quindi non ce la fa a ritentare questa fase rialzista per tentare di ragionare questi massimi. Ormai il tempo stringe veramente mancano pochi giorni a una fase ciclica che potrebbe indicare difficoltà poi per i mercati nei prossimi e nelle settimane successive e quindi sostanzialmente solo questi sono gli ultimi periodi che Bitcoin secondo me può macinare e tentare questi nuovi massimi. E ci sta provando, devo essere sincero, ci sta provando, si è scontrato contro questo livello di resistenza, lo vediamo oggi ma ci sono anche delle cose da guardare per quanto riguarda le altcoin e soprattutto altre cripto in primis andando a guardare la dominance di Bitcoin che si avvicina ad una fase come vedete molto 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 rischiosa C'è una fase dove la dominance potrebbe in effetti diminuire un pochetto a favore magari delle altcoin da metà agosto in poi ma 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 c'è anche un ma alcune altcoin io oggi le stavo guardando e in particolar modo c'è Ethereum che ancora stenta in pratica ad arrivare verso la zona dei massimi dell'anno 2023 e questo non è un bene perché sostanzialmente indicherebbe che su questa zona è stato fatto un massimo rilevante verso aprile che Bitcoin ha già rotto ma Ethereum non ci riesce e quindi o accelera veramente in maniera consistente da qui in poi perché è proprio questa la finestra temporale dove noi possiamo avere un ultimo sdlancio sostanzialmente ragazzi di Alzista oppure c'è qualcosa che bolle in pentola e non si va a collegare bene la dominance di Bitcoin con la questione del rapporto cambio Ethereum BTC allora un video un po' più leggero da un certo punto di vista ma complesso molto tecnico quindi incollatevi alla sedia mercoledì 9 agosto mi spiace insomma ragazzi che dovete stare qui a sentire a me nuova cosa vabbè allora chi di voi è qui mi lasci un mi piace per questi video perché veramente è sudatissimo in questo periodo di ferie e soprattutto fatemi sentire anche alla vostra vicinanza nei commenti ragazzi io sono sempre vicino quando vedo delle cose mi piace comunque a prescindere dalle ferie o meno fare i video perché mi piace stare sempre aggiornati eccetera allora io inizierei dalla questione del Bitcoin e dal rialzo della scorsa giornata con questo minimo rilevante ma non tanto rilevante che indicherebbe appunto che su questa zona di agosto l'1 agosto è iniziato un nuovo ciclo mensile che sta facendo la sua campana rialzista ciclo mensile che poi è previsto in chiusura in pratica intorno alla fine di agosto barra 7-8 di settembre perché qui è un ciclo mensile corto da 26 giorni che può arrivare comunque tranquillamente anche a 35 quindi in fine agosto primi di settembre è prevista la fase di chiusura se questo ciclo appartiene al trimestrale precedente non può essere estremamente rialzista quindi non dovrebbe avere grande velleità quindi tra un po' dovremmo assistere a una cosa del genere se invece da qui il mercato tenta una nuova fase quindi brecca la 30.000 dollari come resistenza poi 30.500 in generale quindi questa fascia si posiziona in questa zona e prova a spingere allora può essere che qui sia iniziato metà del ciclo trimestrale ve lo ribadisco un concetto che abbiamo già visto nel video precedente però ve lo ribadisco metà del ciclo trimestrale che a quel punto ha tutta la possibilità addirittura di fare nuovi massimi fino a 32 e fare una cosa del genere ora io personalmente anche in Academy nei giorni scorsi siamo andati long una parte prima del rialzo una parte invece dopo ieri sera perché è la parte più lunga quindi quella lunga è ritornata long ragazzi sono molto molto in dubbio su questa operazione perché siamo in una fase ciclica delicata ma la logica che ha guidato le operazioni long che abbiamo fatto divisa in due orizzonti un orizzonte più lungo un orizzonte invece di breve di una settimana che quella che poi utilizzo BitGet diciamo solitamente per fare questo tipo di operatività vi lascio tra l'altro il link in descrizione di BitGet ragazzi con il mio RF e mi date una mano col canale e poi lo sconto lo scontone per voi per quanto riguarda la FI se volete utilizzare quell'exchange però la questione è legata al concetto che non potevamo star fuori cioè questo è il discorso perché qualora il mercato dovesse poi creare questa ipotesi e lo può fare vi ripeto come l'ho detto anche nel video precedente perché sostanzialmente questo può essere anche configurato come una chiusura di metà del ciclo trimestrale e non ha vincoli a ribassisti di sorta perciò sostanzialmente può fare quel che gli pare nuovi massimi con tranquillità o poi appunto non farcela tentare non farcela e andare in chiusura però non potevamo star fuori perché perché nel momento in cui fa una cosa del genere poi quando entriamo ragazzi c'è il problema di fondo è proteggersi che a questo punto sempre diciamo una cosa strana da un evento positivo cioè noi dobbiamo comunque salire su quello scenario e in caso prendiamo stop perché non c'è modo poi di farlo dopo quando abbiamo maggiori dati che ci portano acqua al nostro mulino quindi dici no il mercato va a long poi è troppo alto già nella giornata di ieri avete visto come impazzisce il mercato superando delle mini resistenze figuratevi se poi andiamo a chiudere magari in questa zona e quindi poi praticamente andrà quasi certamente al tentativo di breccare questo livello di massimo perché adesso la resistenza a 30.000 la fa da padrona ma dovesse venire meno questa resistenza a 30.000 la successiva poi è 31 31.500 cioè i massimi storici in questa zona qui ed è massimi del 2023 allora questo è il vero la vera questione quindi volenti o nolenti io ieri ho fatto un video in academy ieri mattina prima del rialzo dove spiegavo che bisognava prendere la posizione long a prescindere non c'è la soluzione anche se è molto rischioso ed è vero che è così ragazzi perché questo è un trend in bilico cioè non è un trend molto chiaro e quindi sostanzialmente noi potremmo essere stati sotto scacco dal mercato che ha fatto questo fake breakout qui indicando un tentativo di rottura che poi invece si indebolisce quindi poi siamo nella view a tre cicli come quella che vi ho mostrato nel video di lunedì andatelo a vedere se non lo avete ancora visto e quindi in sostanza questo è uno stop cioè in pratica non c'è la soluzione quindi in un modo o nell'altro bisognava agire in questo modo ora il mercato però ha le chiavi e direttura per tentare di fare questo break ancora tra le altre cose per una serie di dati anche che utilizziamo nell'academy per delle strategie che sono strategie di natura mensile e settimanale la strategia di natura mensile su agosto configura anche la possibilità di raggiungere i 32.000 dollari entro agosto ragazzi e non è un dato strano non è un dato neanche tanto anomalo e non è neanche un dato frutto di un'enorme volatilità una volatilità comunque bassa per il mese di agosto ma in ogni caso questo trend proprio che è iniziato da poco potrebbe in effetti poi spingersi entro la fine agosto a toccare quel livello quindi anche quella strategia che non ha nulla a che fare con la ciclica è una strategia di analisi tecnica che si basa sulla volatilità e su indicatori statistici è un'analisi e una strategia quantitativa porta a quel livello di possibile target se appunto questo trend va a continuare quindi a quel punto quello è il nostro target e quello è la nostra mira in questo momento per andare effettivamente verso quella direzione per il mese ovviamente sono strategie di breve queste qui non riguardano il lungo periodo e perciò ragazzi il mercato ha le carte in regola per poter fare una cosa del genere anche perché nei tempi eravamo veramente stretti e l'ha fatto proprio nei tempi proprio degli scottori perché qui già passava qualche altro giorno e qui insomma ragazzi la questione si metteva male invece proprio è andato a fare il breakout nei tempi stretti c'è anche la media mobile quella che io vi ho detto attenzione fate molta attenzione la media mobile a 200 a 21 periodi sul daily e la media mobile a 11 ritornando e breakout confermato queste medie in pratica si riversano in un mood quindi un momentum di breve periodo rialzista e questo è molto importante anche andarlo a constatare quindi come vedete il livello di resistenza sono i 30.000 dollari devono essere breccati confermati in chiusura daily poi ci sono i 30.500 che fanno da sparti acque cioè una barra di congestione che in pratica è la stessa di questa qui quindi qui c'è tanta liquidità qui c'è tanta oscillazione quindi tanto equilibrio il mercato si fermerà se rompe i 30 si fermerà probabilmente andando a fare un up in questa zona intorno ai 30.800 e poi si ferma intorno a qui per qualche giorno poi decide se appunto fare la gambetta in questo modo detto questo ragazzi queste sono litere di bitcoin quindi se non riesce invece a bloccare a rompere queste 30.000 questo ciclo mensile appartiene al ternario fatto in questo modo e qui non ci sono storie ragazzi se non brecca questo livello e non configura qui metà ciclo trimestrale quindi che qui è iniziato un'altra metà praticamente così quello che farà è un fake breakout e poi una chiusura più bassa di questi livelli qui non c'è storia qui l'analisi ciclica ci viene veramente tanto in aiuto c'è una questione la questione dominance che vi volevo far vedere e poi passare e finire il video con la questione di ETH la questione dominance ragazzi che è anche uno sparticacque tra quello che può essere l'alt season si alt season no bitcoin è sceso tra tanto nelle settimane nei giorni scorsi quindi questa fase qui questa fase non è un trend leggero e non è un laterale come questo precedente quindi passando a 52 in pratica a 49 qui il mercato ha indicato che questo trend è estremamente pronunciato a ribasso quindi è stata una correzione più importante rispetto alle precedenti che erano barre di congestione e questa cosa qui significa che il mercato deve velocemente tentare di fare un altro IRI perché se non lo fa e non brecca questa zona e deve farlo subito questo è stato il massimo e andiamo ad invertire e andiamo poi in chiusura del ciclo annuale della dominance ciclo annuale della dominance che è atteso in chiusura intorno a novembre-dicembre del 2023 ciò significa in parole povere due cose può significare perché la dominanza non è un indicatore che possiamo tradare ma che ci dà un'indicazione su quelli che sono gli equilibri all'interno del mercato delle cripto e quindi sostanzialmente può significare due cose uno debolezza per tutti i mercati delle cripto ma soprattutto bitcoin che perde di più delle altcoin oppure un altseason con Ethereum che guadagna posizioni BNB che guadagna posizioni rispetto a bitcoin fino alla fine dell'anno novembre più o meno del 2023 questa cosa ragazzi va tenuta in considerazione quindi una dominance che deve andare a chiudere il suo ciclo annuale in pratica si configura con un probabile breakout di questo trend line che abbiamo visto da novembre 2022 o una oscillazione con una barra di congestione in questo modo fatta così oppure addirittura proprio un trend ribassista della dominance fino almeno a 48-47% e queste sono le due fasi conclusive e che può configurarsi come un bitcoin sale meno delle altcoin e quindi è la fase positiva oppure in pratica crolla tutto e bitcoin crolla di più delle altcoin cosa effettivamente insomma un po' strana quindi sostanzialmente anche una close annuale della dominance teoricamente potrebbe essere vista a livello di probabilità come un altro indicatore di positività nei prossimi mesi delle altcoin verso bitcoin in effetti questa cosa potremmo poi andarla a vedere andando a guardare quelle che sono le top altcoin perché le mini altcoin ragazzi non hanno impatto sulla dominance che vediamo già dovremmo togliere quella che sono le stable per avere un impatto più consono le lascio perché non hanno un peso importantissimo hanno un peso importante e soprattutto quello che fanno in questo caso è smussare la curva perché le stablecoin in questo caso non ci fanno vedere la giusta percentuale ma rendono anche la curva leggermente smussata comunque un giorno ne parliamo anche della dominance diciamo purificata dalle stablecoin che sarebbe più corretto da andare a utilizzare ve l'ho portata tanto tempo fa più di un anno e mezzo fa forse due anni fa sul canale magari però qualcuno di voi che è nuovo non si ricorda allora andiamo a vedere la questione di ETH e anche di Matic perché volevo farvi vedere una cosa su Matic allora la questione di ETH è sempre in bilico con i due cicli e le due ipotesi del ciclo annuale iniziato a giugno e iniziato a novembre non lo sappiamo al momento stiamo procedendo a tentoni ma questo spuntone che non è stato superato quindi questo massimo in questa zona non è positivo quindi anche qui vedete ragazzi qui il tempo stringe anche per Ethereum cioè se vuole fare un massimo deve farlo adesso deve farlo entro novembre e questo potrebbe essere effettivamente una idea che va a configurare una comparazione corretta diciamo con la dominanza e il grafico della dominanza perché ragazzi? perché qui se noi andiamo a mettere un eventuale ciclo annuale EDI e ETH iniziato non a giugno ma a novembre con una lingua di Bayer Cort si definisce così un'anomalia tecnica questo ciclo annuale va in chiusura a gennaio più o meno gennaio-febbraio del 2024 ciò significa che lo spuntone rialzista per non lasciare questo qui che è veramente molto distante dall'inizio del ciclo annuale deve avvenire in questo secondo ciclo semestrale quindi può avvenire qui in questa zona sarebbe proprio da manuale e questa zona è novembre ragazzi vedete è novembre qui quindi significa che teoricamente qui potrebbe in effetti ETH sbalordire proprio nei prossimi mesi insieme a alcune altcoin spingere un po' di più di bitcoin andando magari a recuperare quei due punti percentuali per far chiudere poi il ciclo annuale della dominance di bitcoin intorno ai 48 che poi non vi aspettate grandi cifre secondo me perché in termini percentuali sarà il recupero di uno o due punti percentuali però questo noi non lo utilizziamo a modo di trading ma a modo di indicazione delle aspettative dei prossimi mesi che in effetti potrebbero volgere a favore di quest alt season mini direi perché chiamarlo alt season è un po' eccessivo però vedete anche la difficoltà di ETH che in questo momento non ci fa poi presumere una forza tale per cui io dico va bene andiamo lungo intanto siamo veramente lontani anche da questo livello di massimo che sono i 2000 dollari deve andare su c'è una scadenza ciclica che dobbiamo capire che cosa fa quella del trimestrale se la fa qui non la fa qui allora anche in questo caso come TH è nel stesso livello di bitcoin cioè qui ho ha chiuso metà del trimestrale e sale ancora e oppure qui facciamo uno o due e poi magari ci prova e vedremo una cosa del genere e questo qui insomma andremo a vederlo io personalmente non ho posizioni long su Ethereum prediligo ancora bitcoin però da settembre in poi cambio un po' idea vediamo come sono messi i grafici e vedrò però sostanzialmente per chiudere diciamo un po' questa questione un'eventuale fase di forza di bitcoin in questo momento potrebbe essere in effetti positiva proprio a innescare questo meccanismo fermo restando che resta valida la questione e qui potrebbe essere l'imbalzo del gatto morto per poi chiudere questo ciclo trimestrale e nel caso di bitcoin praticamente dovrebbe essere fatto in questo modo quindi qui è stato un fake e poi da qui verrebbe magari la possibilità di andare in effetti su un breakout del genere però io sul successivo trimestrale ho dei dubbi che possa fare nuovi massimi importanti ho molti dubbi quindi sostanzialmente poi su quello vedrò io mi aspetto che se vuole avere sbranci importanti lo faccia proprio ad agosto anche perché ad agosto come dicevo un mese particolare c'è poca gente quindi adatto magari a questi giochini per squali giochini per balene gli faccio vedere anche il grafico di Matic perché il grafico di Matic ha una struttura interessante in quanto Matic ha creato un prima rimbalzo dalla sua chiusura che ciclicamente dovrebbe essere venuto a giugno 2023 si sta andando a configurare quello che è un ciclo lo metto con le shadow quello che è un ciclo di natura trimestrale che dovrebbe andare a chiudersi proprio verso fine di agosto quindi questo ciclo trimestrale teoricamente potrebbe essere una cosa del genere e poi configurare appunto una ripresa attenzione a questi giorni soprattutto su Matic ragazzi perché da qui a fine mese si va a configurare una possibile fase di accumulazione per poi un eventuale rimbalzo successivo intanto non sto dicendo che da qui sale sto dicendo che da qui potrebbe configurarsi la chiusura di questo trimestrale e questo trimestrale poi ne fa iniziare un nuovo e quello nuovo a noi interessa perché se il Matic riesce a non scendere al di sotto di questi minimi e sembra che dovrebbe fare una scesona imponente fatta in questo modo potrebbe stare appunto fermo indicherebbe che qui inizia un nuovo annuale perché a quel punto siamo nel nuovo annuale e qui non andiamo sotto il minimo perciò la ripresa di un eventuale trimestrale potrebbe spingere Matic a fare un massimo intorno anche al dollaro insomma il dollaro è qualcosa e guardate un po' configurando sempre una scadenza intorno a novembre questo perché porterebbe anche un'indicazione interessante per quella questione legata alla dominance che deve andare poi in chiusura del ciclo annuale allora cosa ne pensate di questa cosa? Messe di riflessione, accumulazione quindi o partiamo ora a tentare nuovi massimi per bitcoin oppure fake poi si chiude il trimestrale a fine agosto e poi riparte un trimestrale che a quel punto bisognerà vedere se ce la fa quindi quanto sono rimasti? Oggi è 9, 15 giorni, 20 giorni di questa fase molto interessante da trader da andare a prendere anche su Matic l'avete vista anche su Ethereum l'avete vista e ci sono anche su altre crypto cosa ne pensate di una cosa del genere? partiamo in quarta anticipiamo di solito i mercati anticipano non lasciano tanto spazio di ingresso oppure fake e poi facciamo pinta di scendere cosicché prendiamo trappoloni e manipolazioni a Google e poi riparte dopo quando tutti pensano che la cosa è saltata in aria vedremo un po' quello che accadrà cosa ne pensate voi? scrivetelo nei commenti ciao a tutti buon 9 agosto così questa ciao